È un aereo leggendario. Senza di lui non saremmo arrivati per primi sulla Luna. È il primo mega aereo cargo della NASA. Il valore del nostro carico spesso arriva a 10 milioni di dollari. Il Super Gappi. È un velivolo unico. Trasportiamo questo mega carico da costa a costa. Trasporta i carichi più imponenti della NASA. Pronti? Sì! Se qualcosa dovesse andare storto, sarebbe a dir poco disastroso. Il Gappi viene messo alla prova. Che cosa è stato? Niente di buono. Durante la sua prima missione dopo una revisione completa.